ciao 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 no perché ciao Good morning world We are here Sì, siamo riusciti, siamo riusciti. Sì, siamo riusciti, siamo riusciti, siamo riusciti. Sì, siamo riusciti, siamo riusciti, siamo riusciti. E'y avanti, bisogna andare a fare la stagione. Sì, certo? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. E'y avanti. E'y avanti. E'y avanti. Sì, siamo arrivati. 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 So, a tutti, è un'accommodo. E'y avanti. E, i significati. C'è un'anno passato con un'anno passato. è stato fatto non abbiamo fatto una vloggera non siamo fissati siamo arrivati in metro siamo in metro in più si è stile siamo in un grande limousine è un grande limousine mi voglio solo share un'anno a cui è un'anno 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 Sì, siamo qui nel Central Railway Station C'è un po' di più 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 Cos'hanno detto? Siamo proprio di fronte Eccoci Eccoci Siamo venuti Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 No, perché Stammi accompagnati Stammi 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 Ciao! Ciao a Roma! Sì, abbiamo anche 10 minuti di anticipo. È arrivato alle 10.30. Wow, bello il vettore. Quindi siamo in ... Milano Inter encouraged L'ai cuore Oh selfie 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 Picture video I didn't know where to go Wow Wow, bella questa è, è una cittadina moderna, wow, beautiful, we really are tourists. Wow, bella, bella, bella. Wow, bella, 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 bella. Wow, bella, bella, bella. Second day party. Second day party, part two. Second day party, part two. Tante auguri a te, tante auguri a te, tante auguri a te. Carissimo, a me carissimo. È stato un vero piacere averti conosciuto. Ti auguriamo un buon cinquantesimo. Con questo piccolo pensiero ricordo che lo sarai e pensai a noi. Amici di Latina, Mauro Stefani e Azzurra. Questa è la situazione di queste medie. Tu vuoi vedere l'editore. Là e là, ti mettono gesso. Bello. Questa questa la uso come canovaccio, come dici tu. Come parananza. Da noi dicono una parananza. È molto bello, grazie. Applausi, applausi, applausi. Applausi, applausi. Edetto. Vabbè, lo puoi pure mettere. Vediamo come ti sta, la vogliamo vedere come ti sta. No, ho chiesto quando fa freddo. Vediamo come ti sta, dai. Eh, queste sono sempre contro questi. Sì, sì. Com'è che si vuole? Così? La vuoi anche svelare, o così la vuoi fare più larga. La str Ricardo li tu Emma, la metti doppia. La devi aprire su. Ah, c'è ancora, aspetta, vieni a volar? Mettitelo al collo, mettitelo al collo, o così, o così, o se no fai i doppi modi e andiamo, 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 e la puoi usare pure come tovaglia, decidi tu, capisci, anche come tovaglia. E ora faccio il picnic, questo che è Ciberia, grazie, Ciberia, 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 E' il piccolo sabone, cioccolatino, cioccolatino, grazie, grazie, facciamo il ricordo aria, merci, E questo invece, le formaggio, le formaggio, le formaggio, eccolo, ah, è così, adesso lo devi mettere, come funziona, lo mangi così o lo metti pure sulla piazza? E' questa che apri e mangi, ecco anche mangiare nella piazza, si, ma è questo? E' quella che si pira, eh, si, guarda, questo sformacchine di, eh, puoi assaggiare già, puoi mangiare, Questo però si scalda, perché si mangia un po' croccante? Si, eh, mi sa che, ah, cosa è quello? Lo mangio a casa, Miri, perché non vorrei che mi facessi poi male, capisci? Ah, si, quella non lo so se c'è. Quindi lo devi scaldare, lo devi scaldare, lo mangio io, Miri, lo mangio io, Miri, lo mangio io, Grazie, grazie, che bello, che periodo andate? Beh, andate a luglio, volevamo andare, ah, quando è che ti laurei? Ma vengono anche i tuoi? Vengono anche i tuoi? No, ah, bueno. I miei non sono mai voluti venire. Oh, ah, ah, muore, 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 muore. ahahah ahahahah ahahahhah ahahahah ahahahah a macmar ahahahah ahahahhah gli bambina per me terni la verità il sa peinho il il pang ott il pangé il pangé il pangé per la verità il pangé un pangé come devo fare tutti? un bufaro allora vai 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 ah Miri si può che muovono i capelli a lei si si bella andiamo va che se no la scuola non ci arriviamo più all'interno ah questa hanno fatto proprio stiamo bene allora hai fatto bene lì? non puoi usare il post quanto ha visto poi per andare in stazione dobbiamo fermare più dobbiamo andare via è Paiso di Milano è tutto oh mio i più Davide i suoi cari ora sono qui ho preso il sport o il jeep? non ricordo oh è giusto la droga la droga sulle si era bene Grazie a tutti. 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 Beautiful building. Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Montenapoleone. There you see? Per ragazzi. Per ragazzo. 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 è stato davvero 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 margaretta cosa per te? cosa ti dice? piña colada! piña colada! piña colada, piña colada piña colada, ok, quindi spritz martini e ora siamo in la stazione trying to to catch the train, catch if you can! run while you can, yes run while you can run forest run! run run run! run forest run! i'm here, i'm here, i'm here, i'm here we're here we're here we here we are here Grazie a tutti